si ripartirà con un fallo laterale occhio perché ci sarà un cambio Liverpool in possesso a caccia del gol del vantaggio si riversano in avanti a caccia del gol partita, manca poco al termine a metri e con questo gol passano in vantaggio Rete che potrebbe rivelarsi decisiva difficile ipotizzare a questo punto